Ciao ragazze, allora questo è l'outfit di stasera abbiamo cercato di creare la luce in maniera casalinga aspetta che faccio vedere vabbè, allora come trucco non ho messo nessun fondotinta, solo un pochino di correttore sulle imperfezioni terra blush, poi ho messo l'illusion d'ombro di Chanel con la matita nera sfumata e come rossetto quello di Nicki Minaj ah sì, quello della MAC che non so, viva glam, numero poi allora abbiamo questo top preso dal sito Kogul mi sembra, sì, Kogul che è praticamente nero, abbastanza semplice, ha collato e qua tutte queste borchettine vedete le dettaglie borchettine voilà e rimane un po' strano così laterale per la pirouette, ok così poi come pantaloni ho messo questi qua arancio o rosa cosa sono? salmone salmone belli fluo che sono appunto stretti ma comunque Vittoria che sembra magra è magra ok ho detto sembra magra è magra e quindi sono skinny, le avevo presi da Zara e ai piedi queste scarpe che però mi fanno già male quindi ho scusato se le cambierò a mettere le altre zeppe comunque sono delle zeppe che ho preso lì in un negozio che non mi ricordo più se si chiama Gianna o Giovanna nei saldi e sono abbastanza comode mi ha detto che io ho un piccolo problema perché soffro di alluce enorme non so se sono un'unica da avere questo problema e quindi dopo un po' le scarpe mi stringono qua e quindi mi tagliano infatti adesso vedrò cosa fare se tenerlo o no come pochette userò sicuramente questa qua molto freddo e magari mi porterò dietro una sciarpina perché io soffro freddo e tra l'altro dovrei mettere anche il mio telefono lì dentro perché la mia borsa non entra ecco quindi insomma ci saranno un po' di robe ok adesso passiamo a quello di Alida vai ma luce ok allora il mio abbinamento senza accessori perché ho lasciato tutto a Torino è un top di intimissimi che risale all'anteguerra più o meno ed è molto semplice abbastanza scollato con dietro il fiocchettino ah perché non metteva più a fuoco sì se gli dai un attimo poi lei si il pantalone è un pantalone che ho preso a Torino in via madama Cristina ma si vede anche la luce ma è in via madama Cristina e ho pagato con i saldi 15 euro anche la sua cinturina marrone la macchia è andata via la macchia di ieri sera non è andata via ma noi facciamo finta che non ci sia ok è beige faccio una rapidissima pirouette molto carini e i sandali sono zeppe in corda e pelle marrone di Guess che ho pagato con i sandali con i saldi all'incirca 55 euro da 160 che costavano molto comodi li ho provati però sono altissimi e non ho smalto perché mercoledì vado a farmi la roba semi permanente ai piedi e quindi li sto tenendo senza smalto e magari mi porto la videocamera se la ragazza mi lascia faccio vedere il procedimento dello smalto semi permanente ecco e come borsetta inauguro porto per la prima volta a passeggio questa clutch o clanch no la clanch perché per me è il clanch come la chiama Vittoria acquistata sempre a Torino dalla Therapy Labs pagata 27 euro scontata del 50% dentro e così dove non ci sta una cippa di niente non ci sta una cippa solo il mio mini portafoglio e ogni città cioè praticamente è di figura esatto è solo per farla figa ecco io esco con questa mi sento figa e trendy cioè come se avessi in mano un computer esatto come se avessi in mano una 24 ore una cosa di belletta ecco dentro ci mettono la lucida labbra il portafoglio e Vittoria mi terrà il telefono perché tante grazie non ci sta come trucco in questo trucco ho il lucida labbra di Pupa della collezione Hot Tropics poi mascara della Deborah pigmento MAC colore rose gold mi sembra che si chiami e poi ho il la terra di Seychelles di neve make up e l'illuminante è un po' di illuminante sempre di neve make up gold qualcosa adesso andremo a cercare un paio di orecchini che vadano bene beh a quelli di ieri sera che ti ho imprezzato quelli di andrebbero bene però c'è già questa che secondo me fa vabbè non è niente si scusate proviamo secondo me ci stanno bene va bene ciao ciao